Il protocollo di Aruba Il protocollo di Aruba Il protocollo di Aruba non c'è una conseguenza per i valori di valori di valori di Holanda. Però lo che il governo di Holanda mi sa comprende, con una portacina che ha pagato di valori di Aruba, e il pobo che ha pagato di valori di valori di valori di Arubiano, può pagare il disastro degli ultimi cinque anni, lo che non ha negli ultimi cinque anni è il deficit che deve, che è un dato momento che è un accordo, perché è un accordo che è un accordo che è tenuto in conto che è la situazione dei nostri pobli, e se noi stiamo chiedendo che il accordo si impugna con l'interesse del nostro pobolo. Il parlamentario ha chiesto di sostegno di sui colleghi in Stato per rechazzare il accordo, e, più importante, è rechazzare la legge. Noi stiamo chiesto di nostri colleghi in Parlamento per rechazzare, non solo di un accordo, ma di rechazzare la legge, ma di un'unica cosa che non chiede nella legge del governo di Aruba, che il governo di Ullanda ha fatto il draft, ma di un'unica cosa che non ha spazio per la democrazia parlamentaria a funzionare, ma di un'unica cosa che non sta di accordo con lui, e di un'unica cosa che non sta di accordo con lui. E mi chiede un momento per noi riflessionare, e comprendere quello che è il Presidente e il Presidente, Alcimena Ricca in Cammar, a riflessionare. Chi ha trascinato il nostro punto qui? Il governo di Ullanda, il governo di Aruba. Il governo di Ullanda ha fatto il che si non si è inveno di una legge della legge, che ci si è in un'unica cosa che non vuoi fare, vengono di un'unica cosa che in Cammar. E' un'unica cosa che è invenuto portare, ma di un'unica cosa che ci sta di fare. Grazie a tutti.